Musica Visto che oggi non c'è scuola passerò tutto il pomeriggio con Marco Magari è la volta buona che ci mettiamo insieme Ma non essere precipitosa Prima controlla quante probabilità hai di conquistarlo col servizio Baci cuore amore di 09 Non solo calcola il vostro feeling ma ti consiglia anche le mosse giuste Prova subito, fai come me Invia un sms con scritto fuoco seguito dal mio nome Niccolò e dal nome della mia lei Sara Al numero 48409 e 7 su 10 Intesa normale ma migliorerà Allora invio subito un sms con fuoco seguito dal mio nome Francesca e dal suo nome Marco Al numero 48409 e 10 su 10 lo sapevo Bellissimo eh, ma non travolgerlo come un camion Conquistalo dolcemente con una delle frasi ad effetto del servizio Flirt di 09 Fai come me, invio un sms con scritto Flirt al numero 48409 Beh, già questa va bene Diele in oltre, invio subito Flirt al 48409 e non avrà scampo E tu vai alla pagina 655 di Media Video e scopri il mondo 09 Italia 1 Sono i più grandi I colossi del bodybuilding internazionale si sfidano nella gara più attesa dell'anno La sfida più ambita dai culturisti di tutto il mondo Dopo otto anni di vittorie, Ronnie Coleman lascia il trono Da Las Vegas, Mister Olimpia 2006 Questa sera alle 23.30 su Italia 1 Cos'ha di speciale il nuovo Twix? Con Twix staccole grande In che senso? Ora è croccantissimo Tra buono Caramello, due biscotti super croccanti e mmm un sacco di cioccolato Due volte buono Nuovo Twix, più buono che mai Troppo Twix Il coccodrillo come fa È uscito Baby Club Il primo corso di ballo per bambini in DVD Gli animatori e i bambini del Baby Club ti insegnano a ballare 12 grandi successi Oltre al DVD trovi anche un CD con le 21 canzoni più belle per animare le tue feste Baby Club, in edicola e nei negozi di dischi a prezzo speciale Ave Maria, grazie plena, Ave Maria, grazie plena Ave Maria, grazie plena Sei Piaciuto il coro del Conte Max? Lui è venuto proprio una schifezza Bene, facciamo gli auguri e andiamo via Fai gli auguri con carta auguri team Avrai 500 messaggi da inviare a tutti E in più chiami e richiami gratis Buon Natale! Ecco, andavosene Perché la madre non apprezza lo stile americano, è una cacera Oh, carissimi, tutto bene? A me hanno chiesto un castello scozzese con un drago parlante Io devo consegnare una montagna di abbonamenti Sky a 11 euro al mese Per un Natale come hai sempre sognato Regalati Sky da 11 euro al mese Abbonati entro il 31 dicembre Disney Channel è incluso! Ma va! A uscita Hitmania 2007 con tutti i successi del momento Per ogni vita che nasce Hitmania 2007 Nei negozi Bibiuschi è in edicola Nell'era del Metal Age Altri fieri dragoni si sono svegliati per conquistare il regno di Ryussan Queste infernali creature prendono l'energia dagli altri dragoni Costruisci l'epica battaglia dei dragoni con le nuove Metal X Da Mega Bloks Per me i capi sono come una seconda pelle Ecco perché ho scelto Biopresto Sensitive Che unisce all'efficacia di sempre la delicatezza sulla pelle Infatti non mi irrita Non ci credete? Vi faccio vedere io eh! Visto! Probabilmente il miglior detersivo per la vostra pelle Da oggi Biopresto Lavatrice diventa Biopresto Sensitive Qualità Enkel Il tuo naso soffre la stagione Non riesci a dormire Finalmente c'è ActiTherapy Il diffusore balsamico per un sollievo che dura tutta la notte ActiTherapy Per essere balsamico Vorticar! Il nuovo mangiastrada! Tramite impulso del telecomando Si rivalta e continua la sua corsa Prestazioni davvero straordinarie Cambia l'assetto delle ruote Vedrai un vortice inarrestabile Vorticar! L'unico radiocomando che corre anche in diagonale Vorticar! Da Cignico What is my test? Entra nella Dragon Ball Arena E sfida i lottatori più forti del pianeta Solo i grandi combattenti possono vincere il torneo Giochi preziosi Play Generation La tua rivista preferita presenta Play Generation Games In edicola ai migliori giochi originali per PlayStation 2 Matrix Path of Nioh Margecos Getting Up Swords of Destiny Euro Rally Champion Collezionali tutti Play Generation Games In edicola ad un prezzo mai visto Da Edizioni Master Boo Boo Broms Veste i bambini Da sempre Ma perché non mi siete pigliata una Clio Leiene? New Clio Leiene Dannatamente Food of Life Arriba! Arriva il portoio! Buon cattriceo! Call of Duty 3 Nella battaglia Come mai prima d'ora Paris Hilton Una foto ti prego Hai cambiato pure te? Certo Fai foto Con vietato ai maggiori di 3 Hai gratis ogni giorno Un'ora di chiamate 60 messaggi Nessuno scatta la risposta E ti aiutiamo a studiare Ma allora lo voglio pure io Non puoi E' vietato ai maggiori Now you can be No? E' arrivata Principessa Regina delle Coccole Una gatta elegante Affettuosa Tutta da coccolare E' come una gatta vera E' morbida Accarezzala E ti farà le fusa Sarà gelosa il cane Eh? Abbiamo un gatto? E' un vero cucciolo E' Furrial Da Hasbro My Little Pony My Little Pony Girellina Primi passi Cammina con te Wow Si muove davvero Inizio a camminare Se batto le mani E va tanti per te Ma le talpone Nel cuore Da Hasbro Italia Uno Stiamo installando Mille telecamere in città Stiamo preparando Una puntata speciale Di Candy Camera Vi aspetto Con personaggi famosi A fare da esca E Giacomo Valenti In diretto Candid Camera Show Puntata speciale Lunedì alle 21.05 Italia Uno